Ooooooh! Quindi, no, no, si, giocherà sicuramente di nuovo da una nuova famiglia, magari da un'esterno. Ci scrive Salvatoretti Proffolo. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ciao, ciao, ciao. Allora, intanto metto che la sciata è ansipata, eh? ... ... ... ... Grazie. 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 Grazie.